Buongiorno e benvenuti al nostro Tg del mattino. In apertura parliamo dell'incendio che si è sviluppato ieri a Venafro, sulla montagna che sovrasta Venafro. Sono intervenuti i vigili del fuoco e anche mezzi aerei perché la zona è impervia, ma ci dice tutto Davide Gambardella. Un pomeriggio di lavoro straordinario per i vigili del fuoco di Sernia, impegnati a domare le fiamme in uno dei punti più impervi della montagna di Venafro, nella gola a poca distanza da Contrada alle Noci. Il fronte delle lingue di fuoco, frazionato in più punti, ha arrecato non poche difficoltà nelle operazioni di spengimento. Impossibile raggiungere con le autobotti il vasto incendio. Ad entrare in azione un elicottero della regione molise, supportato nelle operazioni da un Canadair proveniente da Olbia. Il velivolo è arrivato dopo ore dalla Sardegna, poiché non vi erano a disposizione altri mezzi di emergenza, a causa dei roghi che in queste ore imperversano in tutta Italia. Sono due fronti su cui si sono propagate le fiamme, uno di ovest e l'altro di est. Sono due fronti preoccupanti anche a causa del vento, la fase in continua evoluzione, ma al momento non sono a rischio le abitazioni di Contrada alle Noci. Ancora da chiarire invece la natura delle fiamme. Le temperature torrite fino a 40 gradi e il vento che alimenta il fuoco non fanno abbassare il livello di guardia dei caschi rossi di Isernia. Per il 15 agosto il Ministero della Cultura ha comunicato quali saranno in tutta Italia i siti e luoghi archeologici e culturali aperti secondo le modalità consuete e a pagamento. Vediamo anche quali sono quelli visitabili in Molise. Anche quest'anno per il 15 agosto musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali, tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini, resteranno aperti. Il Ministero della Cultura ha comunicato che le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa dove è prevista la prenotazione. È bene consultare dunque i siti specifici. L'elenco dei luoghi aperti al pubblico è sul sito del Ministero della Cultura e potrebbero esserci variazioni dell'ultimo momento, comunicate di volta in volta su di esso. In Molise, a Ferragosto, sono visitabili a Campobasso il Museo archeologico sannitico, a Civita Campomarano, a Gambatese e a Venafro i rispettivi castelli. A Venafro anche il Museo archeologico aperti, pure il Santuario Italico, a Pietrabbondante, l'area archeologica di Sepino Altiglia e il Museo della Città e del Territorio, il complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno, ancora a Isernia il Museo archeologico di Santa Maria delle Monache e quello nazionale del Paleolitico. Il Ministero ha sottolineato che quelle del 15 agosto non sono aperture gratuite. Sono stati raccolti e consegnati all'Associazione Mitù oltre 400 quadrati realizzati a uncinetto dalle volontarie di Carpinone, che per mesi sono state impegnate in un progetto molto più ampio. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Barbara Fino. Sono stati consegnati a Carpinone i lavori realizzati da molte donne del paese per l'evento del 23-24 novembre prossimo, promosso e organizzato dall'Associazione Mitù allo scopo di coprire Piazza Andrea di Isernia con oltre 8.000 quadrati realizzati ad uncinetto. Ci abbiamo messo, credo, tutti quanti il cuore in questa organizzazione, in questa iniziativa. è stata l'occasione anche di frequentare persone che potessi non abbiamo l'occasione di vederci tutti i giorni, fare conoscenza e soprattutto vedere che siamo presenti tutti quanti l'uno per l'altro. È stata veramente un'emozione incredibile. Penso che siamo stati una ventina fra chi ha collaborato nei lavori, chi ha collaborato nell'organizzazione, in altre iniziative, chi ne ha fatte di più, chi ne ha fatte di meno, anche qualcuno che ne ha fatte anche una sola, quella simbolica, ma ha partecipato, dunque è stato un piacere anche quello. E quanti quadrati avete raccolto? Siamo arrivati, credo, a 405-406, non ricordo di preciso, ma oltre i 400. Le coperte saranno oggetto di una raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza APS Libera Luna. Il progetto è nato grazie alla collaborazione dell'associazione M2 con l'associazione Viva Vittoria, ideatrice dell'iniziativa. Sì, veramente c'è stata una grandissima risposta da parte di tutte le signore, ma anche dei signori di questa regione, che hanno risposto al nostro invito a collaborare, a partecipare per poter realizzare questo progetto Viva Vittoria Esernia nel miglior modo possibile, con tantissimo colore. Ecco, come vi siete organizzati? Finora quanti quadrati avete raccolto? Diciamo che ad oggi i quadrati materialmente consegnati sono 1.400, ma contiamo di raggiungere il nostro obiettivo, che era 8.344. Il 23 e il 24 di novembre saremo tutti in piazza Andrea di Esernia per colorare questa piazza con tutte le coperte che saranno assemblate dai quadrati raccolti in giro per il Molise e non solo, e poi tutto ciò che verrà ricavato dalla vendita di queste coperte sarà interamente donato al centro antiviolenza di Beraluna, che opera qui in Molise, per assistere le donne vittime di violenza. E adesso l'appello per un cane che si è smarrito, una barboncina nana e si è smarrita nella zona del Macerone a Isernia. Isernia la vedete in questa foto. Chiunque l'abbia vista, l'abbia trovata o ne abbia comunque notizie può contattare, come sempre, la nostra redazione. È tutto per il Tg del mattino, adesso la rassegna stampa. Con Nicola Marcogliese in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it Incendio sulla montagna di Venafro, Canadair in azione per domare le fiamme in una zona impervia. Poi termoli di Laga, la sosta selvaggia e non mancano i furti. Ancora vediamo le altre notizie. La Marte 2024, grande attesa per la quarta edizione dal 12 al 13 agosto. A Colletorto i ragazzi del 1984 si ritrovano per festeggiare i 40 anni. Ancora il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, Servizio Regionale Molise, festeggia 70 anni. Elio Germano e Teoteardo interpretano Pasolini al Teatro Romano di Altiglia. La serata conclusiva del Festival delle Narrazioni di San Lorenzo. Musei e luoghi della cultura aperti in Molise a Ferragosto. Ancora vigili del fuoco impegnati su un incidente appetacciato, ferite due bambine e squadre anche partite per gli incendi in provincia di Lecce. Limosano ha ospitato il primo incontro di Chiese Aperte, iniziativa promossa nell'ambito del progetto Romanicamente in Cammino, Giubileo for All. E poi ci sono le altre notizie sul giornale del Molise.it. Intanto vi proponiamo nella sezione editoriali questo contributo dal titolo desiderato di Annunziata d'Alessio. Un quadro per celebrare la notte di San Lorenzo. Come non l'abbiamo mai vista e come l'avremmo sempre voluta. scrive una riflessione molto toccante, molto sentita, quella dell'Alessio che parte appunto dal quadro Notte di San Lorenzo del pittore molisano Massimo Maglione. In primo piano due anime che si cullano e riposano in un unico abbraccio, un orso e un uomo. E poi parte una riflessione di Annunziata d'Alessio. Vediamo come è titola. Primo piano Molise, il quotidiano del Molise. Secondo sottosegretario. Di Baggio al contrattacco. Il consigliere di Forza Italia rompe il silenzio e lancia segnali alle opposizioni, ma anche ai suoi. Nessuno parla delle indennità ai vice dei vice dell'ufficio di presidenza del Consiglio. Spendere soldi per il referendum è folle. C'è un accordo con Forza Italia, il Presidente e i mezzi. Per risolvere questo il virgolettato con le dichiarazioni di Baggio. Poi Isernia, cantiere a cielo aperto. Stiamo lavorando per il futuro. L'assessore Umberto Di Giacomo fa il punto sulle opere in corso di realizzazione. Ragioniamo a lungo termine per il bene della città. Campobasso, ladri in azione all'Unimol, forzati distributori di bibite e snack. Poi ancora Venafro, brucia la montagna alle noci. Canadeire ed elicottero in volo, notevoli i danni. Ancora Campobasso, ricorsi elettorali, nervi tesi in tutti gli schieramenti. Maretta nel centro-destra, ma tremano pure i civici. Vediamo poi ancora il punto di Pasquale Damiani. Forza Italia con il PD. Sogno o realtà? Sono gli interrogativi. A Termoli, poi Fasce di Miss Italia in piazza. Ma la vera star è il Ridge di Beautiful. A Carpinone, Festival Internazionale del Folklore. Cala il sipario sulla 22esima edizione. Che successo? In taglio alto le notizie di Sport Calcio. Campobasso e il tecnico Braglia. Dice, strada giusta, sappiamo cosa manca. Isernia, cinque gol rifilati alla Fraterna nel Memorial dedicato a Luigi Mazzocco. Basket, l'Air Termoli conferma la guardia Tersillo e il playmaker Pitardi. Vediamo adesso come titolano i quotidiani nazionali. La Repubblica, la bella Italia. Si sono chiusi i giochi di Parigi con una medaglia d'oro fantastica per il volley femminile. E vediamo appunto questa foto con le protagoniste con la medaglia d'oro. Le azzurre del volley sul podio dell'oro e del primo storico oro per il volley azzurro. Il volley femminile. Gli azzurri eguagliano le medaglie di Tokyo. Specchio di un paese multietnico e inclusivo. Polemica di vannacci su Egonu. La ministra Roccella. Le prossime Olimpiadi. Nessuna distinzione tra uomini e donne. Malagò contro il ministro. Parole fuori luogo sulla fine del mio ciclo al CONI. Dunque le polemiche. E poi ci sono gli approfondimenti. E il sogno di Velasco si realizza 28 anni dopo quella finale persa per un soffio ad Atlanta. Nel 1996 con la famosa generazione dei fenomeni. Quella finale con l'Olanda. E ci sono poi le altre notizie sulla Repubblica. Andiamo avanti e vediamo quei titoli del Corriere della Sera. Anche qui le ragazze del volley nella leggenda. Poi spinta di Biden per la tregua. Gaza è il presidente degli Stati Uniti. Patto possibile a massa attuare il piano americano. Zelensky chiede all'Occidente mano libera sulle armi. Mosca annuncia. Ci sarà una dura risposta. Oltre agli approfondimenti ovviamente sulla chiusura dei giochi olimpici ci sono queste altre notizie. Il ministro degli esteri italiani. L'ora del cessate il fuoco dice nella striscia e in Ucraina. Campagna elettorale. L'intervista e l'attrazione fatale di Musk verso Donald Trump. E manovra il lavoro. I numeri del disagio giovanile. E ci sono ancora le altre notizie sul Corriere della Sera. Vediamo adesso il Fatto Quotidiano. Zelensky chiede carta bianca a Putin. La risposta sarà dura. Escalation infinita. Kiev tenta di trascinare gli alleati in guerra con la Russia. e poi decreto altro che 100%. 6.000 euro a famiglia per beni mobili. Romagna un miliardo di danni e il governo ne rimborsa solo un quinto. Poi le altre notizie sul Fatto Quotidiano. E' inchiesta a Mediapart Gaza. I palestinesi raccontano la vita tra i razzi e i droni. Poi polizze capestro e RC Auto. In Italia c'è un ben godi degli assicuratori. Vediamo la stampa di Torino. L'oro delle italiane. Ovviamente la palla a volo. E Stati Uniti e Israele protegga. Stati Uniti a Israele. Protegga i civili. Harris avvisa Netanyahu. Missili russi piovono su Kiev. Continua l'avanzata ucraina. La diplomazia. L'Italia lavori con tutti per il cessato del fuoco. E poi l'economia. La Fed eviti la recessione. E non pensi alla politica. Scrive Paul Krugman. E poi ancora vediamo le altre notizie. Inizia l'intervista. Conte mai con Renzi. Se il Movimento 5 Stelle cambia. Vado via. Dice. Nell'intervista. L'analisi di Massimo Cacciari. Il contraccolpo che serve all'Europa. Riscoprire la speranza per cercare la pace. Passiamo al messaggero. Ovviamente le Olimpiadi. Anche qui è Mosca. Missile made in Corea. Su Kiev. Nel Kursk infuria la battaglia di terra. La controffensiva russa. Mentre l'Ucraina rafforza le sue truppe. Il Valzer degli ambasciatori. Una diplomatica a Kabul. E torna la sede in Siria. Auto in fiamme. Residenti intossicati. Panico e fuga. Dal parco acquatico. A Roma è ancora allarme. Incendi. E l'Aquila muore per infezione ospedaliera. Indagati sei medici. Libero. Libero. Titola così. La sinistra divide l'Italia in bianchi e neri. Il PD ruba l'oro a Little Volley. Trionfo delle ragazze di Velasco. I compagni le usano contro la destra. E poi ancora. Di Paris 2024. Il fallimento di Macron. contradito dai suoi giochi. C'era una volta il diritto di parola. Le donne e la libertà vittime delle Olimpiadi. Scrive Fausto Carioti. E poi ancora. Capitale nel caos. Roma non deve rassegnarsi al suo degrado. Scrive Antonio Socci. Giustizia da rifare. Messi in carcere 4.000 innocenti. Lady Scippo fuori. Pietro Senaldi analizza la questione. Israele uccide un altro capo. Adesso Amas vuole la tregua. Giovedì vertice al Cairo. Da Libero passiamo al secolo d'Italia. Orgogliosi di voi. Italia tra le dieci grandi dei giochi. E l'editoriale. E poi ancora. Vediamo gli altri titoli. Ciriani. Troveremo la quadra. Da sinistra non prendiamo lezioni. Berlinguerre e Almirante. Redi di storie da capire reciprocamente. Venezuela. Spariti due italiani. Oppositori del regime di Maduro. La gazzetta dello sport. E il titolo. È dedicato agli Olimpiadi. Ma soprattutto al capolavoro oro. Delle ragazze di Velasco. L'Olimpiadi chiude con l'impresa del volley. Davvero storica. Storico. Lo trionfo delle sorelle d'Italia. Stati Uniti dominati. Ed erano i campioni. Olimpi ciuscenti. Egonu. Velasco. E la squadra delle schiacciate. Perfette. Tokyo battuta. 40 medaglie. Uguale a Tokyo. Ma con 12 ori. Rispetto ai 10 conquistati in Giappone. Al Quirinale. Pure i quarti posti. E l'Italia è prima in questa speciale classifica di quarti posti. Dopo 28 anni. Giulio Velasco. Il papacitti ha regolato i conti. Ma forse è l'ora di lasciare. Lascia intendere nelle interviste. A Giochi Fatti siamo un paese fondato anche sullo sport. Grazie alle donne. E questa bellissima immagine delle ragazze con il tricolore. Vediamo adesso le altre notizie. Le amichevoli estive. Ma fra una settimana c'è il campionato. Inizia. Juve altro K.O. Mamotto avrà Nico González. La Juventus perde 2 a 0 contro l'Atletico Madrid. Coppa Italia. Cosenza ha battuto 2 a 0. Capitan Zapata lancia il Toro fuori 3 di A. E poi ci sono le altre notizie all'interno della Gazzetta dello Sport. E così termina la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Come sempre alle 14.00 con il Tg. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti